RECUPERIAMO GLI ANTIVIRALI 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 Chiesta assistenza medica immediata Sorgente segnale criptato Bene, potremo intercettare le comunicazioni di riserva Sorgente segnale Cerca un terminale per collegare l'ISAC Trasmissione nemica intercettata Qui Viverna, preparate gli elicotteri Dobbiamo portare via gli antivirali La divisione si è infiltrata nel complesso Nessuno di quegli elicotteri deve decollare I container sono pronti per il recupero A che punto sono gli elicotteri? È questione di pochi minuti Ci stiamo lavorando Merda, ricevuto Cerca di tenere a terra quegli elicotteri Cerca di tenere a terra che si è infatti Mi viverna, i elicotteri sono fuori uso Come cazzo è successo? Bisogna sistemare questa faccenda Subito Occupatene personalmente Ricevuto Grazie a tutti Grazie a tutti Ti servirà tutto l'aiuto possibile C'è una squadra di supporto pronta Ma dovrai trovare il modo di farli passare dall'ingresso principale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Trova il modo di disattivarle Siamo stati compromessi Rinforzati Rinforzate l'ingresso principale Grazie a tutti 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 Prendi il secondo cilindro Nel frattempo Nel frattempo Nel frattempo la squadra di supporto penserà al primo Iverna i nemici hanno preso un cilindro vogliono intercettare l'altro Difendete il ponte Proteggete il centro Indietro Un cilindro Un cilindro Un cilindro Un incidente Un nascer Richiediamo fuoco di supporto. Abbiamo degli ottili sul ponte. Negativo. Non possiamo mettere a rischio gli attivi ravi. Ricevuto. Brune medico in arrivo. Tante parole, poche palle. Abbiamo un contatto! Brune Thunderbird. Vado all'attacco di quell'overcraft. Negativo Thunderbird. Ti farebbero pezzi. Grazie a tutti. Campioni in sicurezza. Stiamo per uscire. E' già avuto un po' più lavoro. Un po' la portata delle vicinanze. Sono colpito. Sto perdendo il controllo. Ah, fanco. Quel elicottero ha centrato le turbine. Siamo bloccati. Viverna, dovete evacuare a piedi. Ora, cazzo. Quegli antivirali ci servono. Volete che scappi? Credevo mi conosceva un po' meglio. È un'ordine vera. Siamo sicuri. Sali su quell'overcraft e metti al sicuro il resto degli antivirali. Il sim di supporto proteggerà i cilindri. Un attimo, ci fermo un altro. All'ordine. 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 Grazie a tutti. Viverna, che stai facendo? Faccio esplodere quella cazzo di Casa Bianca. Ma sei completamente fuori di testa. Dobbiamo fottere quei bastardi, ed è proprio ciò che farò. Cristo è fuori di testa! La gente fa tutto il possibile per fermare quei lanciarazzi. Lanciarazzi carichi. Maledizione, Viverna, fermati! Negativo, signore. Mi rifiuto. Sei qui per vedere i fuori di artigianza. Penso che non ti deluderanno. Versaglio acquisito. Inizio sequenza lancio. Cristo sotto. Attenzione! Questa non è un'esercitazione. Dobbiamo evacuare immediatamente l'edificio. Ripeto, non è un'esercitazione! Trezza! Non è un'esercitazione. Basta non era una delle loro scute. Non è un'esercitazione. Ti fa! Non è un'esercitazione! Qui ci ha? È un'esercitazione! Il Bosco panцевale! Non è un'esercitazione! Ma hai! Ma hai! Ma hai! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alimentazione secondaria lanciarazzi attivata. Sequenza lancio a piano. Ora mi stai facendo incassare. Puoi proprio scordarti una morte veloce e indolore. Grazie a tutti. Segni vitali critici. Agente a terra. Chi? Viverna, fai rapporto. Viverna, rispondi. Viverna, cazzo. I cilindri di antivirale sono al sicuro. Faremo in modo che vengano estratti senza problemi. Signore, ci sono degli elicotteri nemici in arrivo. Dobbiamo abbatterli? Negativo. Non sparate. Non dobbiamo colpire i cilindri.